Ha un nome impronunciabile, ma si tratta comunque di un vulcano presente in Islanda. Si tratta del vulcano Fagra Dalsfjall e un satellite chiamato Sentinel-Chiu ha ripreso il momento esatto in cui questo vulcano ha eruttato la lava. L'eruzione è stata visibile a chiunque e nessuno escluso. L'immagine è stata acquisita qualche giorno dopo, ci troviamo a qualche chilometro da Leftri Routour, 30 km a sud di Reykjavik, la capitale islandese. Tuttavia le autorità hanno fatto sapere a cittadini e turisti di stare attenti e di stare lontani dalla lava e dal vulcano perché ovviamente questo vulcano può effettivamente parlando emettere lava e può coinvolgere chi eventualmente parlando possa andare in luogo, possa addentrarsi vicino al vulcano in questione. Quindi la richiesta del sindaco e anche della città di Reykjavik, ma anche del presidente islandese, è quella di stare lontano, tassativamente parlando dal vulcano in questione, per evitare di essere coinvolti da lava, da fenomeni platici. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi al canale youtube narrato italiano o commentate. Ciao a tutti e una buona giornata.